Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Perché si dice a buo levere di Maurizio Silvestri Levere, chi era costui? Si chiese una mattina svegliandosi dopo una mangiata di cacciucco il nostro direttore e perché si dice, scusateci la volgarità che noi sempre e comunque abborriamo, mettersi a buo levere? Così inizia la ricerca del capo che consulta libri, manoscritti e incunaboli per risolvere l'enigma Mettersi a buo levere è un termine quasi in disuso nelle più giovani generazioni ma i più anziani, e neanche troppo, associano l'espressione a un qualcosa di turpe e pornografico Di certo è la posizione del corpo della persona che si sottopone alla pratica L'immaginario collettivo vede il soggetto in ginocchio, o meglio a quattro zampe, immobile, in attesa di qualcosa Già, di cosa? Tutto sta in quel levere Alla fine la risposta arriva da San Francisco, dove da anni vive un amico del direttore e anche lui esperto in cose labroniche Certo che so cosa vuol dire mettersi a buo levere, ma non è assolutamente quello che credono i livornesi Sorpresa! Si scopre così che tale Jules Lever, in un tempo in cui le condanne a morte si eseguivano ancora nella fortezza vecchia svolgeva l'ingrato, ma socialmente utile, almeno per i tempi, ruolo di boia Il suo attrezzo da lavoro era la mannaia che si abbatteva sul collo quando prendeva bene la mira del condannato Altrimenti si poteva spaccare la spalla o un po' di busto e il colpo doveva essere ripetuto Ora, siccome il nostro Lever era un tipo scrupoloso e voleva svolgere bene il suo lavoro, dedicava parecchio tempo a sistemare nella giusta posizione il suo cliente in modo che la testa fosse perfettamente piazzata sul ceppo Tanta era la meticolosità che si meritò di dare il nome alla posizione a buo levere, poi divenuto Lever Significa dunque stare col sedere allineato orizzontalmente con la testa Niente di pornografico dunque, ma siccome a Livorno quando uno sta per morire si usa sempre dire che Eh, l'ha avuto in quel posto, e ci scusiamo di nuovo per la volgarità Ecco che il collegamento con il boia e con la fine del malcapitato è stato automatico Il nostro corrispondente da San Francisco ci dice anche che qualcuno sosteneva che Lever usasse anche abusare prima dell'esecuzione del condannato visto che era in quella posizione Ma questa, probabilmente, è solo un'illazione di qualche maligno dell'epoca